Il 4 novembre è il giorno dell'unità nazionale, la giornata delle forze armate e in tutta la nazione avvengono celebrazioni ufficiali per celebrarla. Il 4 novembre del 1918 aveva a termine il primo conflitto mondiale, la Grande Guerra, un evento che ha segnato in modo profondo indelebile l'inizio del Novecento e che ha determinato radicali mutamenti politici e sociali. La data che celebra la fine vittoriosa della guerra commemora la firma dell'armistizio siglato a Villa Giusti con l'impero austro-ungarico ed è divenuta quindi la giornata dedicata alle forze armate. In questa giornata si intende ricordare in special modo tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di patria e di attaccamento al dovere, valori immutati nel tempo per i militari di allora e quelli di oggi. Si è svolta a Pesaro, presso la caserma Aldo del Monte, la cerimonia per celebrare il 4 novembre. La cerimonia segnata dall'alza bandiera, la presenza di un reparto d'onore interforze in armi, composto dal personale dell'esercito, dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della Capitaneria di Porto, della Polizia di Stato, del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Penitenziaria, all'intento di condividere sentimenti e valori comuni con la cittadinanza. Il ventottesimo reggimento Pavia, padrone di casa, ha aperto le porte della caserma dalle nove fino alle tredici e dove è stata allestita una mostra di materiali e mezzi militari delle forze armate e corpi dello Stato. Sempre poi all'interno della caserma è stata celebrata una cerimonia religiosa militare, alla presenza del prefetto di Pesero Urbino, del sindaco di Pesero e del comandante del ventottesimo reggimento Pavia, il colonnello Massimo Marceddu. Oggi ricordiamo la fine della prima guerra mondiale e il sacrificio di tutti coloro che hanno dato la vita per l'unità dell'Italia, uomini e donne delle forze armate e tutta la società civile che ha supportato le forze armate in questo impegno. Questa ricorrenza è estremamente importante, vuole trasferire alle giovani generazioni un messaggio importante, cioè la cura di quegli ideali, di quei valori e quindi è importante che le giovani generazioni ne facciano tesoro, è importante che le giovani generazioni ne tramandino i valori anche a quelle che verranno e soprattutto che non rendano vano, non rendano inutile il sacrificio di tanti italiani.